Qui c'è una volontà politica, se fosse stato presentato in Consiglio regionale una mozione un po' più dura che impegnava il Presidente e la Giunta a fermarsi e fosse stata approvata, il Presidente avrebbe dovuto quantomeno fare una riflessione. Allora, Rossi fa il tifo non tanto per i francesi ma perché si arriva alla conclusione di una gara, perché lui è convinto che la gara su ambito unico dia un servizio migliore. Se la gara l'avevano vinta o comunque in questo momento ci fosse stato il raggruppamento di Mobit a essere in vantaggio, diciamo, a essere gli affidatari del servizio sarebbe stata la stessa identica cosa.